La cultura come veicolo di rinascita, come strumento per riconnettere i fili della vita che si è interrotta dieci anni fa. Da qui partirà il programma per le celebrazioni del decennale del terremoto che il 6 aprile del 2009 ha sconquassato l'esistenza sociale, economica e culturale di un intero territorio e che a distanza di dieci anni ancora cerca di tornare alla sua normalità. Sono ancora tanti i problemi, primo fra tutti la ricostruzione degli edifici pubblici che non procede all'Aquila come in tutto il cratere sismico. Dalla cultura nasce dunque l'idea di un programma di eventi e iniziative condiviso e sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali. La firma dell'accordo è avvenuta questa mattina tra il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il sottosegretario alla cultura Gianluca Vacca nella sede del MIBAC a Roma. Un programma che potrà contare su un milione e mezzo di euro messi a disposizione direttamente dal governo, primo atto attuativo e applicativo della legge di bilancio per il 2019 a cui si aggiungono 580 mila euro tra fondi restarte comunali. Due gli organismi su cui si basa l'accordo, un comitato di garanti e un comitato organizzativo e scientifico. Tra le iniziative ci sarà la costituzione di una rete dei luoghi della cultura e un festival teatrale intitolato Festival degli Incontri. Per il sindaco Biondi il decennale sarà il momento del ricordo, del lutto e della memoria ma anche occasione per mostrare al mondo la forza della rinascita dell'Aquila. Da un lato il ricordo che ci serve anche come monito futuro, non soltanto per coltivare il lutto che pure è importante, la memoria naturalmente, ma anche per avere gli stimoli giusti per sapere che cosa fare dell'Aquila e per rendere onore al sacrificio di tante persone. Il sottosegretario Vacca ha ricordato l'impegno del governo per la ricostruzione. L'obiettivo è proprio quello di dare anche una dimensione nazionale e internazionale, anche coinvolgendo per esempio i paesi, le istituzioni culturali dei paesi che hanno aiutato l'Aquila nella fase della ricostruzione, e quello anche di riflettere, di valorizzare anche il lavoro che è stato fatto e dare un nuovo slancio a tutto il lavoro che ancora deve essere svolto. Ascoltiamo le istanze che vengono dai territori, soprattutto dai sindaci con i quali dialoghiamo continuamente. Ricordo che noi, per quanto riguarda il sismo 2016, siamo usciti da poco dalla fase dell'emergenza, cioè quello appunto del primo intervento, e adesso si sta avviando la ricostruzione. Quindi il punto è quello di avviare una procedura per la ricostruzione che sia il più veloce possibile, che sia ovviamente rispettosa della legge, dei criteri di trasparenza e di efficienza, e questo c'è l'impegno del sottosegretario alla ricostruzione, Vito Crime, alla presenza del Consiglio dei Ministri, ovviamente Massimo ci sta lavorando già da un bel po'. Grazie.